Attenzione, attenzione, questa volta la sfida infernale non è tra il bandito e lo sceriffo attraverso la parateria del West, non è tra gangsters e poliziotti per le vie tumultuose della metropoli e nemmeno tra Sabre e Mig 15 nei cieli infuocati, ma la sfida infernale è fra Totò e Fabrizi per la prima volta insieme in un grande film, perché la guardia Fabrizi insegue con tanto accanimento il ladro Totò, forse per quello che avvenne una mattina al foro romano? Qui abbiamo tutte le tombe e le tomfette, tombe di, cioè arco di Tito, Tito, no Tito Tito, Tito Tito Caro esposito, io ho desiderio di conoscerla, sono passato qui a casa sua nella speranza di incontrarla Sì, anch'io dando piacere conoscerla Sia tranquillo, a me non scappa mai nessuno Oh, manca molto? Ohi, rispondi! Tiri la catena! Andiamo! Guardie e ladri, costretti dalla vita ad essere avversari ma umanamente legati dagli stessi problemi e dalle stesse necessità Insomma, che qual'è il suo sospetto? Avanti, sentiamo Qual'è? Qual'è? C'ho una paura del libero Di essere duberco Oh, tua scossona! Disgrazia! Senta, ma perché non mi suona una samba? N'ho sentita una l'altra sera al Garibardi che è un fenomeno Fa così Mangiava sempre pasticcini e cioccolata Cicca patata Cicca patata Era bella ma era sempre Ad un vestito così Cicca patata Cicca patata Cicca patata Cicca patata? Cicca patata? Non è un coltello che non c'è più Lasciate la mano Sulla zappa a dito Dove sono i denari? Ragazzi, vai a spazio? Sì, vai a spazio Ma papà, c'è quell'amico tuo vestito da prete Che? Un amico vestito da prete Già, un amico vestito da prete Che? E' un prete vestito d'amico E' un amico mio prete Scusi Chi è? Il giornale un momento, portarmelo Si accomodi Guardie e ladri Un film comicissimo E nello stesso tempo pieno di umanità Interpretato da due grandi attori Che vi faranno divertire E qualche volta anche commuovere Ma si può sapere perché ce l'hai tanto? Nemmeno fosse un pregante Di quelli che vanno ad assaltare le banche Ma non lo vedi che sono un poveraccio? Ma che t'ho fatto? A me niente Ma agli altri che fai danno Eh? Stai a tagliare Ehi, no, no, no Adesso mi parte Fai il tuo da bere Ma va bene, no, ha bevuto Bello, pulito Fai il tuo da bere Ma ho costato lei Ma Che sei Ma Ma Riuscirà la guardia ad acciuppare il ladro? Lo saprete venendo a vedere Guardie e ladri, il film prodotto dalla Fonchi dell'Aurentis Golden Films e diretto da Steno e Monicelli.